musica 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 hai già fatto un tiktok? un tiktok? mi chiedono i vlog sai cosa è un vlog? ok questa è la situazione abbiamo mangiato non vuoi far vedere il tuo outfit? fanno tutti così fanno vedere il proprio outfit ah tra l'altro guardavo tutte le vostre le vostre storie al mare ed ero pronta a dire guarda questi che parli che mettono sempre le storie in vacanza così qua e là e poi ho pensato no un'altra